Dobbiamo dire, e lo dobbiamo fare io per primo, che non può bastare l'appartenenza al club degli amici degli amici per avere ruoli. Vi prometto che noi non sostituiremo un gruppo dirigente, il loro gruppo dirigente, con un altro gruppo dirigente, il nostro gruppo dirigente. Vi prometto che noi non cambieremo gruppo di potere. Se abbiamo avuto tutti questi voti, li abbiamo avuti per scardinare il sistema, non per rimpiazzare i loro con i nostri. Non c'è amicizia più grande di chi ti dice in faccia le cose, non c'è lealtà più grande di chi non si tira indietro. E il gruppo dirigente che da domani guiderà il PD deve avere questa caratteristica, non dire di sì al capo o presunto tale, ma dire in faccia quello che pensa, avere il coraggio delle proprie azioni, mantenere la schiena dritta. Apprezzo di più chi dice le cose che pensa, che non chi si nasconde dietro al potere delle correnti. Ecco perché la prima corrente da rottamare è la corrente dei Renziani, che anzi da stasera ufficialmente è sciolta, ammesso che sia mai esistita.